Salvatore Giordano è il nuovo presidente del Conservatorio Rossini. Il decreto di nomina è arrivato sul tavolo del direttore Ludovico Bramati. L'avvocato Giordano, direttore di Confindustria, ricoprirà questo prestigioso incarico in un momento particolare perché Pesaro è reduce dalle celebrazioni per i 150 anni di Rossini ed è città della musica Unesco. Incontrerà presto i vertici del Conservatorio e ha già fatto sapere di voler mettere la sua esperienza al servizio di Rossini. Tra le priorità il recupero del Pedrotti con il restauro dell'organo e il completamento dell'agibilità.